Buon pomeriggio, terza edizione di Calabria News 24 in forma. Effettuati dai carabinieri di Gioia Tauro, 41 fermi tra la Calabria e la Lombardia. Pare sia coinvolto nell'operazione denominata Lex anche Vincenzo Laina, assessore del comune di Laurana di Borrello. L'indagine è stata avviata a partire dal 2014. Sentiamo Graziano Tomarchio. Dalle prime luci di questa mattina, nella provincia di Reggio Calabria, Roma, Milano, Vibo Valencia, Paria, Varese, Como, Monza e Cagliari, i carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria, collaborati in fase esecutiva dai militari dello squadrone eliportato Cacciatori e della compagnia speciale del GOC e ancora da unità Cinofele e dall'ottavo nucleo elicotteri dei carabinieri di Vibo Valencia e nonché dai comandi provinciali e territorialmente competenti, hanno dato esecuzione al provvedimento di fermo di indiziale delitto emesso dalla DDA di Reggio Calabria nei confronti di 41 indagati, 36 in carcere e 5 agli arresti domiciliari, ritenuti tutti a vario titolo gravemente indiziati e in particolare i delitti commessi sarebbero quello di associazione mafiosa in relazione all'associazione legata al locale di Indrangheta di Laureana di Borrello, formata dalle famiglie Ferrentino, Kindamo e Lumari, che opera ovviamente nei comuni di Laureana e comuni limitrofi con ramificazioni in tutta la provincia regina e anche in altre province. I reati contestati sono concorso esterno in associazione mafiosa, porto e detenzione di armi comuni da sparo ed ancora importazione e cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, estorsione, lesioni personali gravi, frode sportiva, intestazione fittizia di beni, incendio, danneggiamento e violenza privata, con l'aggravante per tutti i delitti dell'agevolazione delle attività di associazione mafiosa. L'indagine tra origine da una serie di episodi criminosi registrati sul territorio di Laureana di Borrello e anche in zone limitrofe, a partire dal mese di giugno del 2014, sintomatici dell'operatività del sodalizio criminale attivo in quell'area ed in grado di esercitare un controllo del tipo mafioso sull'intera comunità. Di qui l'avvio della complessa entività di indagine svolta dai carabinieri della compagnia di Gioia Tauro sotto il coordinamento della procura distrettuale antimafia. In particolare è stata accalata l'appartenenza a molti degli odierni fermati, anche in ruoli diversi delle cose che dicevamo Ferrentino, Kindamo e Lumari. Nel corso delle indagini è emerso che la cosca, valendosi di una forza intimidatrice derivante proprio dal suo vincolo associativo, riusciva a controllare e a sfruttare le risorse economiche della zona mediante il compimento di una serie di indeterminata di delitti riguardanti armi, patrimonio, la vita, l'incolumità individuale e il commercio di sostanze stupefacenti. Sono inoltre documentate molteplici condotte da parte della cosca andranghetistica tese ad influenzare l'ordinario antiamamento delle istituzioni, in particolare le condotte di alcuni componenti dell'amministrazione comunale di Laureana di Borrello per la giudicazione di appalti pubblici in favore di aziende mafiose e di riferimento della cosca. Emblematica è la posizione dell'assessore al verde pubblico, agricoltura, manutenzione, servizio idrico, servizi democratici, viabilità del comune di Laureana, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa, perché pur non facendo parte dell'essodalizio criminoso forniva un concreto e consapevole e volontario contributo all'Andrina Kindamo Ferrentino. Era appunto il referente politico dell'essodalizio. In taluni casi infatti alcuni cittadini sono stati vittimi di atti ritorsivi perpetrati in maniera cruenta attraverso l'esplosione di arma da fuoco e ancora incendi che hanno riguardato beni mobili e immobili di loro proprietà e in una circostanza hanno visto anche un collaboratore scolastico divenire vittima di un pestaggio da parte di alcuni soggetti appartenenti alla cosca per il esso il fatto di aver rimproverato un rampollo minorenne riconducibile all'Andrina Kindamo Ferrentino. In un altro caso invece un imprenditore risultato essere vicino alla cosca rivale dei Lamari è stato sequestrato per alcune ore da appartenenti alla cosca Ferrentino per costringerlo a continuare la gestione fittizia di un'impresa edile ubicata a Voghera in nome e per conto del sodalizio. È stato inoltre documentato come la principale fonte di guadagno della cosca fosse rappresentata dal traffico internazionale di sostanze stupefacenti avente quale canale di approvvigionamento le tratte dall'India e dalla Columbia che portano al porto di Gioia Tauro dove con le compiacenze di soggetti vicini alle cosche operanti proprio in quello scalo venivano fatti passare ben occultati in cargo contenenti riso e ingenti quantitativi di droga il tutto grazie alla copertura di una società la ditta Import-Export United Sindkeepers SRL con sede a Milano e Roma interamente controllata da imprenditori prestanome della consorteria mafiosa Diversi sono state anche le ipotesi di intestazione fittizia riscontrate con numerose attività commerciali tra le quali spiccono due imprese edili ed una società attiva nel porto di Gioia Tauro di Import-Export ed alcuni immobili in Lombardia nonché l'infiltrazione della famiglia Lamari nella gestione della polisportiva laureanese inserita nel campionato di promozione il Girone B con episodi di combine dei risultati di almeno due incontri di calcio mediante minacce aggravate dalla metodologia mafiosa l'attività ha permesso anche di procedere all'arresto di 5 persone al sequestro di 2 kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana nonché 3 pistole, un fucile, centinaia di murazioni a vario calibro e quasi 2 kg di polvere da sparo ora vediamo i destinatari del provvedimento di fermo eseguito dal corso dell'odierna operazione e sono Marco Ferrentino classe 80 Tiziana Pettè classe 81 Alla Belova classe 89 Alessio Ferrentino alias Ustoccaro classe 78 Francesco Ferrentino alias Ustoccaro classe 90 e ancora Antonino Di Giglio alias Uliralo classe 75 Alessio Ferrentino classe 84 Giuseppe Di Masi classe 88 Pititto Giuseppe classe 75 Jose Signorello dell'87 Giovanni Sibio dell'89 ed ancora Salvatore Monea del 74 Francesco Lamanna classe 86 e Antonio Lamanna del 75 Vincenzo Piromanni del 69 Mario Bevilacqua classe 72 Fabio Aschei classe 61 Pasquale Pettè classe 67 Pasquale Di Masi classe 86 ed ancora tra gli arrestati figura Francesco Prestia del 76 Francesco Tarantino del 76 Marina Panico del 59 Fabio Mezzasalma del 63 Albino Marafioti del 85 Giorgia Ferrari del 95 e Isabella Salvo del 69 ancora Diego Fraide Seguira del 86 Alberto Kindamo dell'88 Vincenzo Lamari aliasenso del 68 Angio Lamari del 67 Mattia Lamari del 97 Fabio Mastroianni dell'87 Natale Papa Andrea del 91 Claudio Napoli del 76 Andrea Prosso Mariti del 73 Vincenzo Laina del 63 Antonio Francesco Ciancio del 95 Maurizio Pedisano dell'81 Felice Zito del 91 Andrea Mandaglio del 95 Giovanni Mandaglio del 93 Nello stesso contesto dalla DGA di Reggio Calabria in maniera preventiva sono state sequestrate una serie di società di beni mobili e mobili ritenuti proprio di conducibile alle tre cosche in particolare sottopose a sequestro in via d'urgenza la di Masi costruzione di Giuseppe Di Masi di Voghera era ancora la costruzione SRL di Lavanna Francesco sempre a Voghera e sempre a Voghera la Dimafaer di Ferrentino Francesco e poi ancora la ditta di Import-Export United Sea Keepers SRL con sede a Milano e a Roma e tra gli altri la ditta DG Lavori Edili di Rigilio Antonino Uliraro la ditta NP Lavori e Costruzione SNC di Napoli Claudio e Prosso Mariti Andrea era ancora l'azienda Demetria con sede a Laureana di Borrello e l'attività commerciale il quadrifoglio di proprietà di Brogna Francesco nelle due sedi di Laureana di Borrello e Ferroleto della Chiesa ed ancora come dicevamo la società polisportiva Laureanese Calcio l'edicola di Petito Giuseppe a Vibo Valencia e il garage adibito alla vendita del pesce stocco di Ferrentino Alessio l'operazione odierna ha visto l'impiego complessivo di 300 militari in tutta la penisola con perquisizioni che hanno interessato diverse abitazioni ed immobili considerati depositi di armi e di droga della consorteria laureanese nonché lo studio legale con sede a Milano di un noto penalista ritenuto vicino alla Cosca Riconsegnata alla cittadinanza la piscina comunale di Villapiana Serenella Chiodi La piscina comunale di Villapiana è ora convenzionata all'istituto comprensivo per garantire i benefici del nuoto a tutti gli studenti della primaria e secondaria già nelle ore curriculari Rita Portulano, consigliere comunale illustra la volontà di aprire le strutture comunali al territorio ma soprattutto ai più piccoli inserendo nell'offerta formativa dell'istituto la possibilità di praticare uno sport completo e spesso dispendioso in strutture esterne come quello del nuoto questo binomio vuole essere il grande valore educativo e di forte impatto sociale che coinvolge i ragazzi nella socializzazione e nell'integrazione ma soprattutto le famiglie Diciamo che questo progetto ha un grande valore educativo e soprattutto un grande impatto sociale tant'è che lo scorso anno il progetto è stato accolto veramente con grande gradimento dai ragazzi e soprattutto dalle famiglie perché? Perché comunque lo sport è inteso da sempre come momento di socializzazione e di integrazione soprattutto è il nuoto che diciamo che è lo sport per eccellenza lo sport più completo per eccellenza è stato accolto di buon grado e il discorso sociale perché? Perché comunque la piscina solitamente ha un costo per le famiglie e dare invece la possibilità anche a coloro che economicamente non potevano farlo dare la possibilità di svolgerlo tra l'altro in orario curriculare gratuitamente è stata un'iniziativa rilevante La scrittrice Lisa Anzalone ricorda la figura di un calabrese illustre Francesco Simonetta Milano e la Calabria che cosa hanno in comune? Forse la maggior parte delle persone non lo sa ma la grandezza di una delle famiglie più importanti del capoluogo lombardo Ghisforza è dovuta proprio ad un calabrese Francesco Simonetta da Caccuri che allora come oggi si parla circa della metà del 1400 è immigrato al nord e da eccellente politico e diplomatico conosceva il latino, il greco, l'ebraico, il francese, il tedesco e lo spagnolo seppe ottenere la fiducia della famiglia milanese diventando il cancelliere del Ducato in carico che conservò per oltre un trentennio Una figura che era caduta nell'oblio nell'oblio più assoluto e specialmente l'ho scritto per i calabresi e io andando a Milano mi sono accorta che magari è più ricordato e andavo verso i navigli e trovavo via Cicco Simonetta andavo nella chiesa dell'incoronata e trovavo le lapidi che ricordavano Cicco Simonetta insomma andavo nella chiesa e trovavo pure le lapidi sia di Angelo Simonetta sia di Giovanni Simonetta Angelo era lo zio di Cicco e Giovanni il fratello quindi personaggi molto conosciuti che nel ricordo vivono ancora a Milano ma che nel ricordo non vivono ancora in Calabria cioè in Calabria un po' dimenticati è vero che a Caccuri c'è un circolo hanno fatto un circolo e qualche anno fa hanno posto una lapide sulla una vecchia casa però che dovrebbe essere ristrutturata fare qualcosa di più per un personaggio che è stato di ingegno veramente vivace che è riuscito a fare non solo la fortuna di sé e della sua famiglia ma la fortuna degli sforza se non ci fosse stato lui il ducato sforza non sarebbe andato avanti così come è andato avanti quindi sarebbe cambiata la storia eppure poi la storia ci ricorda che la sua fine non è stata la sua fine è stata frutto dell'invidia della gelosia e dell'incapacità della duchessa di capire dove doveva fermarsi la duchessa Pone è stata debole si è fatta un po' da un po' convincere diciamo da quel personaggio il tassino di cui ci parla pure Machiavelli che era un personaggio un po' cambico a Castrovillari c'è grande fermento per l'iniziativa nazionale volta alla promozione della lettura intitolata io leggo perché anche a Castrovillari io leggo perché l'iniziativa nazionale di promozione della lettura organizzata dall'associazione italiana editori dopo il successo del 2015 che ha visto la mobilitazione di migliaia di persone e la consegna di 240.000 libri in tutta Italia nel 2016 diventa una grande raccolta della durata di nove giorni a sostegno delle biblioteche scolastiche la libreria San Francesco nel centro di Castrovillari ha aderito all'iniziativa è un'iniziativa che si svolgerà in varie librerie gemellate appunto con l'Ipsia di Castrovillari dal 22 al 30 ottobre ed è possibile dare appunto fare proprio una donazione alla biblioteca dell'Ipsia Leonardo da Vinci di Castrovillari tramite l'acquisto di un libro scelto dai ragazzi c'è un elenco oppure una piccola donazione in denaro che poi verrà accumulata per l'acquisto di libri sono avute molte persone e sono stati tutti quanti molto contenti di aver regalato un libro alla biblioteca scolastica grazie anche all'impegno dei docenti dell'Ipsia dell'Ipsia dell'istituto professionale di Castrovillari e della referente che è la professoressa Patrizia Di Mare è un'iniziativa che praticamente a 360 gradi fa bene a tutti fa bene a tutti anche di scoprire i classi di scoprire il profumo della carta la manualità toccare insomma il libro potrebbe essere praticamente in questa occasione un ritorno alle origini di quando insomma anche noi eravamo ragazzi e avevamo solo questo dopo mesi di cure torna in mare una testugine del tipo caretta caretta è successo stamane Avibo Marina Oana è questo il nome della tartaruga marina caretta caretta che è stata liberata questa mattina nello specchio d'acqua della marina di Pizzo grazie ad una collaborazione tra la Callipo e il centro recupero tartarughe marine di Branca Leone Oana è stata recuperata il 28 agosto ad Amantea proprio poco distante da qui ed aveva una frattura sul carapace della plastica tra stomaco e intestino è una forte debilitazione è stata a porta del centro dove Tania insomma il nostro tecnico veterinario ha incominciato a fare le prime indagini per capire di cosa si trattava e appunto ha iniziato a curarla e oggi siamo qui dopo due mesi a rilasciarla in collaborazione con Callipo che ci ha sostenuto nella nostra attività nell'acquistare un nuovo impianto di filtraggio e quindi siamo venuti qui a fare questa festa insieme a loro In che condizioni era? Le condizioni di Oana all'arrivo erano molto molto critiche adesso ha ripreso quasi 10 kg di peso molto in salute ha ripristinato gli esatti valori del sangue la ferita è stata curata tutta la plastica che aveva in intestino è stata espulsa e quindi è pronta a tornare in mare e che consigli dare? Questi sono animali molto importanti per l'ecosistema marino per la biodiversità del mare quindi la prima cosa da fare sicuramente è non inquinare ne risentono moltissimo della plastica su 9 esemplare su 10 che vengono ricoverate al centro hanno plastica nello stomaco e l'intestino ed è un problema molto importante perché ne causa la morte per cui il consiglio l'appello è quello di utilizzare la plastica almeno il meno possibile appunto è di non inquinare di cercare di non inquinare perché se le tartarughe si estinguono se spariscono dai nostri mari ci saranno delle serie conseguenze per tutta la biodiversità marina Voi avete scelto di aiutare il centro recupero tartarughe marine di Brancaleone? Sì è uno degli elementi della responsabilità sociale di impresa noi dal mare viviamo con il mare perché dalla pesca del tonno poi noi trasformiamo insomma i frutti del mare quindi vogliamo restituire un qualcosa al mare quindi stando vicino a questi scienziati che salvano le tartarughe che nidificano lungo la costa calabrese che insomma sono numerosissime nei nostri mari ma purtroppo per o a causa dei pescatori o per insomma spazzatura che ingeriscono nel mare arrivano a soffrire facciamo il possibile per salvarne un numero insomma il numero più alto possibile E a salutare Oana tanti bambini sia delle scuole elementari che dell'asilo di Pizzo un segnale concreto di rispetto della natura ma soprattutto di sensibilizzazione per i nostri bambini e per i nostri cittadini rispetto ad un tema importante quello appunto del rispetto ambientale quindi abbiamo voluto coinvolgere i giovani studenti delle nostre scuole di Pizzo grazie a questa iniziativa promossa dalla Tonno Callipo e dal centro di recupero tartarughe marine di Branca Leone quindi oggi liberiamo questo esemplare di tartaruga caretta caretta qui nella nostra bellissima marina di Pizzo ed è tutto per questa edizione io vi aspetto stasera alle 20.45 con nuovi aggiornamenti in più vi ricordo che ci potete seguire sulla nostra testata online www.calabrianews24.it e la nostra pagina social appunto su Facebook con calabrianews24.tv grazie per essere stati con noi a più tardi grazie a tutti